Come si vive a Valmaura? A Valmaura? Malissimo. Come male? Mala. Valmaura, dal rapporto reso pubblico ieri dal Comune, risulta uno dei rioni più poveri della città. Il guadagno medio dichiarato nel 2011 è stato infatti di circa 18.000 euro a fronte di un reddito pro capite a Trieste di 21.631 euro. Una situazione economica squilibrata che acquisce ancora di più il disagio della gente che vive nel quartiere. Un degrado palpabile in una zona che, denunciano gli abitanti, è totalmente lasciata a se stessa tra sporcizia, incuria e problemi di inquinamento. Che ci guardano un po' di più, che puliscono un po' di più perché il giardino è anche molto lasciato andare. Per questi bambini che giocano non è mai pulizia. Dicono che vengono a pulire ma poi non si vede nessuno. Migliorare un po' le cose, le case adesso hanno bisogno di manutenzione. Sono tante cose. Questi bei quadretti che dà fastidio perché non c'è nessuno che può intervenire e fare in maniera che il posto che è bel, chiamiamolo così, tra virgolette, resti bel. E allora di conseguenza, diciamo, la vita è quella che purtroppo o se si rassegna il fatto o se no uno può anche girare la testa e fare delle sempiaggini, usiamo questo termine. Che facessero qualcosa per la feriera perché c'è troppo ferro, il poggioglio è sempre pieno di ferro. Nel malde, beh, insomma, se vivi si spera che migliori ma non credo proprio. Ma il mauro ha un pochettino dei problemi di inquinamento sia sonoro che atmosferico. Qua c'è roba, come dite, mesi e anni. Qua c'è un tubo che ho fatto sette anni fa, dei scavi. C'è un tubo là lungo sei metri che c'è là, l'altra è sul terreno, non so perché non lo fa portare via. Qua intorno c'è da questa primavera la borra che ha rotto un ramo, un albero c'è là che giacci. Questi gersi bianchi e rossi, tutti che navigano, è qua e là. Non so, quale dirio se un cartello lo ristradagli messi sull'erba qua, con la dita che fissi i lavori, non puoi portarli via. Potesse chiedere una cosa per Valmaura? Che ne sposti tutti via, se ne mandi, non so, puliti piano, separaria, buona. Cosa vuol dire che lo mandiamo?